A Campobasso due minorenni sono stati deferiti in stato di libertà all'autorità giudiziaria minorile per la detenzione di sostanze stupefacenti e possesso di banconote false. Continuano sul territorio del capoluogo le azioni criminali dei malviventi, furti in tutte le zone periferiche della città. L'onorevole Maurizio Lupi, segretario nazionale di Noi Moderati in città questa mattina per l'inaugurazione della sede del partito, lo stesso Lupi ha parlato poi di sanità e di infrastrutture. Nel pomeriggio è stato presentato alla stampa il nuovo allenatore del Campobasso Rosario per Golizzi, il Lupi in ritiro da domani per cercare la massima concentrazione. Buonasera e ben ritrovati con la nostra informazione che apriamo con la pagina della cronaca. A Campobasso i carabinieri fermano due minori e li trovano in possesso di diversi quantitativi di hashish pronti per lo spaccio. Con la droga i due ragazzi avevano anche sei banconote falsi. Entrambi sono stati denunciati. Vediamo. La piaga del consumo di droga è sempre difficile da estripare, anzi in diversi casi l'età media di assuntori e spacciatori si abbassa pericolosamente, nonostante gli appelli quotidiani rivolti da istituzioni scolastiche, forze dell'ordine e associazioni. L'ultimo caso riguarda la città di Campobasso, tra le strade della periferia nord nel quartiere CEP, qui una pattuglia dei militari dell'arma ha bloccato due ragazzi di appena 15 anni in possesso di diverse dosi di hashish e non meno grave, il possesso di banconote false da 10 euro. Nel corso della perquisizione uno dei ragazzi all'interno di un vasetto aveva nascosto 13 dosi dello stupefacente e appunto sei banconote di aspetto molto simile alle originali. Il secondo minore invece nel marsupio aveva occultato poco meno di un grammo e mezzo di hashish. In entrambi i casi due giovani sono stati denunciati per il possesso illegale della droga. Le dosi sequestrate saranno analizzate al laboratorio chimico del comando provinciale Carabinieri di Foggia per lo studio dei campioni dal punto di vista qualitativo e quantitativo, mentre alla Banca d'Italia le verifiche sulle banconote sospette. E non accenna a diminuire l'ondata di furti che sta colpendo il capoluogo di regione in questi giorni, nelle ultime ore l'ennesimo spiacevole episodio, i malviventi prediligono le zone periferiche della città. L'ondata di furti nella città di Campobasso sembra non avere tregua con i ladri che hanno colpito nuovamente nelle ore notturne di ieri giovedì. Questa volta l'obiettivo dei malviventi è stata la tranquilla contrada a Colle dell'Orso dimostrando una tendenza a prendere e dimiraliare i periferiche del capoluogo dove i rischi di essere scoperti sono notevolmente ridotti. I residenti della contrada Colle dell'Orso sono stati svegliati da una sgradevole sorpresa intorno alle 22 di ieri sera, quando i ladri hanno fatto il loro ingresso furtivo nelle abitazioni. Questo evento segue di vicino un episodio simile avvenuto la scorsa settimana a Contrada a coste di Oratino, evidenziando una preoccupante escalation nella serie di furti che ha colpito la città. La scelta delle aree periferiche sembra essere una strategia prediletta dai malviventi. In questi quartieri meno densamente popolati riescono a infiltrarsi con una certa facilità all'interno di case e ville isolate, approfittando della mancanza di sorveglianze della quiete notturna. Inoltre le aree di campagna circostanti offrono ai ladri un'opportunità perfetta per dileguarsi rapidamente, rendendo ancora più difficile la loro cattura. Le autorità locali e le forze dell'ordine stanno intensificando gli sforzi per affrontare questa emergenza. La polizia locale sta aumentando la sorveglianza nelle zone periferiche della città e sta lavorando a stretto contatto con i residenti per rafforzare la sicurezza delle comunità colpite. Inoltre si stanno esaminando nuove strategie per prevenire ulteriori furti e per individuare i responsabili. La popolazione è invitata a prendere precauzioni aggiuntive come l'installazione di sistemi di allarme e la segnalazione immediata di attività sospette alle autorità competenti. È importante rimanere vigili e cooperare con le forze dell'ordine per porre fine a questa emergenza di furti che sta mettendo a dura prova la sicurezza della città di Campobasso. Ancora una volta sono gli anziani soli in casa, le vittime prescelte dai truffatori. Questa volta il tentativo di truffa si è verificato a pesche. Intanto la polizia di Stato lancia la campagna nazionale per invitare i cittadini a denunciare. Vediamo. L'ennesimo caso di truffa ai danni degli anziani questa volta si è verificato a pesche in provincia di Isernia. Qui un'anziana donna ha ricevuto una telefonata da parte di un giovane che, spacciandosi per suo nipote, le ha chiesto una somma di 3.900 euro per poter ritirare un nuovo computer presso l'ufficio postale dove sarebbe stato recapitato il pacco. L'identificazione degli autori del tentativo di truffa, due giovani di 16 e 18 anni originari della provincia di Napoli, si è resa possibile grazie alla segnalazione di un poliziotto in pensione che abita nelle vicinanze della donna e che ha notato un ragazzo presentarsi alla porta spacciandosi per un corriere. Gli autori sono stati denunciati per truffa aggravata e sostituzione di persone. In considerazione dei molti casi che si verificano quotidianamente, la Polizia di Stato ha lanciato la campagna nazionale con lo slogan «Non siete soli, chiamateci sempre», invitando i cittadini, in particolare gli anziani, a rivolgersi sempre agli agenti in caso di necessità. Un gesto di solidarietà per dare aiuto alle famiglie in stato di povertà domani alla Conad di Campobasso dalle ore 9 alle ore 20 di sera è stata organizzata una raccolta di beni alimentari a favore dell'emporio solidale La Bottega da Antonietta nella Casa degli Angeli, nella città capoluogo di Regione, al fine di contrastare lo stato di indigenza di sempre troppe persone. Restiamo a Campobasso. L'onorevole Maurizio Lupi, segretario nazionale di Noi Moderati, si trova appunto nel capoluogo di Regione per l'inaugurazione della sede del partito in Viale Elena. L'inaugurazione è avvenuta questa mattina. Vediamo. Questa mattina il partito Noi Moderati a Campobasso ha inaugurato la sua nuova sede in Viale Elena. Per l'occasione è arrivato in città il segretario nazionale del partito, l'onorevole Maurizio Lupi, che in queste ore è impegnato negli incontri con gli imprenditori molisani e nelle visite ad alcuni stabilimenti tra i più importanti del capoluogo. Un grazie ai molisani che hanno dato un ottimo risultato alla lista Noi Moderati alle scorse elezioni regionali, più del 7,5%. E poi per ribadire che la nascita appunto del gruppo consigliare dei Noi Moderati, la nomina del consigliere cofelice a coordinatore regionale di Noi Moderati è un segno del contributivo che la nostra proposta politica vuole dare al centro-destra, ma innanzitutto anche a questa regione. C'è bisogno di recuperare responsabilità, concretezza, serietà, competenza, perché la politica torneva ad essere vicina ai propri cittadini e per farlo non possiamo tirarci indietro, non possiamo stare al balcone a guardare che tutto accada e questa è la ragione per cui esiste Noi Moderati nel centro-destra a livello nazionale ed è anche qui in Molise. I temi sono tanti, i problemi sono tanti, innanzitutto la sanità, ne abbiamo discusso anche mercoledì sera con la Presidente Meloni, la prossima legge di bilancio vedrà per forza di cose anche un contributo alla regione Molise sul tema sanitario, abbiamo da ridurre le liste d'attesa in tutta Italia e le infrastrutture, venire qui è un'avventura e siamo nel 2023 il tema della natalità, cioè sono tanti i problemi concreti e ancora una volta i molisani hanno avuto fiducia della proposta politica del centro-destra, non possiamo deludere. L'Onorevole Lupi intende sostenere la sanità molisana impiegando le risorse disponibili. Sanità, famiglia, impresa e retribuzioni, quindi aumento degli stipendi per i nostri collaboratori, dipendenti e i lavoratori dipendenti sono i pilastri della manovra, concentreremo le poche risorse che avremo solo su questi asset, sulla sanità ci sarà un monte complessivo e sarà innanzitutto dedicato perché in Italia si riducano le liste d'attese, abbiamo poi alcune regioni che hanno particolare bisogno, ne abbiamo anche discusso, il Molise è una di queste, la situazione la conoscete bene, adesso lunedì declineremo quali contributi anche immediati possono essere dati alla regione Molise perché possa fare quello che deve fare una regione, cioè sul tema della sanità ritornare ad essere al fianco dei propri cittadini con una dignità della cura che non può essere differente da regione a regione, le liste d'attesa sono una cosa impressionante e quindi a livello nazionale abbiamo detto che per la prima volta, lo diciamo anche all'opposizione, non si tratta di mettere fondi a perdere messi lì nel Fondo Sanitario Nazionale per poi non si sa come usarli, le dobbiamo usare in maniera chiara e netta e saranno per ridurre le liste d'attese per il nuovo contratto per la sanità. E domani pomeriggio 14 ottobre al circolo sannitico di Campobasso ci sarà l'inaugurazione della mostra fotografica Canada Town 1943-2023 allestita in occasione degli 80 anni trascorsi dall'arrivo a Campobasso delle truppe alleate per liberare la città dai tedeschi, l'inaugurazione si terrà alle 17.45. Ci spostiamo adesso a Termoli dove si festeggia il centenario dalla nascita del fumettista Benito Iacovitti con una mostra allestita al Museo di Arte Contemporanea. La mostra su Iacovitti, curata da Luca Raffaelli, rappresenta un'importante occasione di valorizzazione delle ricchezze territoriali, come sottolinea la figlia dell'artista, Silvia Iacovitti. Sono finalmente riuscita a realizzare un sogno, sono riuscita a far ritornare Iacovitti a Termoli nella sua città dove avrebbe voluto sempre ritornare ma per problemi suoi perché non usciva mai di casa mio padre, era sempre in casa a disegnare 24 ore su 24 oserei dire. Quindi, insomma, era tanto, non gli piaceva viaggiare, gli piaceva solo disegnare e sono riuscita a farlo tornare a casa sua a Termoli perché è giusto che sia così, perché è qui che è nato e perché è qui che la gente di Termoli, le persone, ma anche del Molise, stanno facendo tantissime cose belle, tantissime iniziative importanti non solo per Iacovitti ma anche per promuovere la regione e la città ed è importante questo perché in Italia, insomma, abbiamo tante bellezze. Il Molise è una di queste e penso che debba essere un po' rivalutato e quindi bisogna un po' lavorare tutti. Se Iacovitti può contribuire a questo io ne sono felice e quindi sono felice di questa mostra, sono contenta perché Luca Raffaelli, il colatore, è bravissimo, ha capito veramente quello che Iacovitti è e quello che Iacovitti disegna e qui ce lo mostra in maniera chiara e bella. Più di così non potrei volere dalla vita. Quindi grazie e viva Iacovitti e viva Termoli e viva noi. La dieta mediterranea svolge un ruolo importante nella prevenzione di alcune patologie. Questo è quanto emerge dalla ricerca condotta dal Neuromed di Pozzilli per il progetto Moli Sani. Il progetto Moli Sani è una ricerca portata avanti dall'Istituto Neuromed di Pozzilli per dimostrare l'importanza dell'alimentazione nella prevenzione dell'insorgenza di alcune malattie. I ricercatori dal 2005 hanno coinvolto nel progetto un totale di oltre 24.000 persone, tra uomini e donne, analizzandone i valori raccolti a scopo di studio. Il confronto dei dati è servito a creare lo schema di risk score, ovvero dei fattori di rischio legati all'alimentazione e allo stile di vita, a cui è associato un ponteggio numerico. L'algoritmo così ottenuto è stato pubblicato sul giornale internazionale di cardiologia e ha visto il lavoro del Neuromed in collaborazione con altri prestigiosi centri di ricerca italiani. Tra i fattori di rischio presi in considerazione dall'algoritmo ci sono quelli modificabili dallo stesso paziente, quando sceglie di adottare uno stile di vita più sano. Ad esempio il fumo o i livelli di colesterolo nel sangue, ma anche la tendenza all'obesità, sono tutte caratteristiche su cui il paziente, con l'aiuto degli specialisti, può lavorare per migliorare la propria salute e ridurre così il rischio di sviluppare alcune patologie. Come sempre la dieta mediterranea rimane quella consigliata dagli esperti, unita ad una corretta attività motoria. A Castel del Giudice questo fine settimana torna la Festa della Mela tra gastronomia e visite guidate, un programma ricco per riscoprire le varietà di questo frutto. Domani a Castel del Giudice partirà la sesta edizione della Festa della Mela. La fiera gastronomica dedicata ad un frutto simbolo dell'autunno sarà caratterizzata da convegni, momenti conviviali e spettacoli. Ampio spazio sarà dedicato alle tradizioni locali che passano anche attraverso la valorizzazione dei giochi di una volta. Il mercato dei produttori biologici artigianali sarà visitabile nelle giornate di domani 14 ottobre e domenica 15. Alle 16 di domani il convegno a tema Le varietà antiche di mela locali, tra cultura ed economia, sarà l'occasione per parlare dei progetti di valorizzazione per la coltivazione delle varietà antiche di mela. Visite guidate al Giardino delle Mele Antiche e ad altri siti di interesse naturalistico o gastronomico rappresenteranno una parte importante della manifestazione. In serata il concerto di Eusebio Martinelli Gypsy Orchestra chiuderà la prima giornata. Dopodomani 15 ottobre l'esposizione gastronomica e dell'artigianato vedrà anche la presenza degli artisti del Castel del Giudice Baskers Festival che svolgeranno spettacoli durante tutta la manifestazione. La festa della mela rappresenta un'occasione importante per valorizzare le varietà locali di questo frutto molto apprezzato, portatore di sapori antichi e tradizioni da riscoprire. Domani e domenica in Molise saranno riproposte le giornate d'autunno del Fondo Ambiente Italiano itinerare alla scoperta delle bellezze culturali e naturali del paese. Sabato e domenica tornano le giornate fai d'autunno dedicate alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. Anche in Molise è previste visite guidate nei luoghi di interesse storico ed archeologico. Nel Basso Molise saranno visitabili il borgo dipinto di Campomarino, la chiesa di Santa Maria Mare con la relativa cripta e Palazzo Onorante in cui è allestita la mostra fotografica permanente sulla storia delle piste d'aviazione della Seconda Guerra Mondiale. L'itinerario del percorso guidato alla scoperta dei luoghi durerà un'ora con partenza da Piazza Vittorio Veneto a Campomarino. Per i visitatori vi è infine la possibilità di diventare tesserati fai ed usufruire dell'accesso prioritario alle visite speciali nei luoghi della cultura. Quinta edizione di Cammina Natura per il Molise appuntamenti domani e domenica con partenze rispettivamente da Carovilli e Pesco Pennataro alla riscoperta del paesaggio naturale della storia, turismo sostenibile e gastronomia locale una a due giorni promossa dall'Associazione Guide Ambientali Escursionistiche. Adesso spazio alle previsioni meteorologiche. Metal Impianti Metal Impianti Carpenterie metalliche civili e industriali Scale Acciaio Corten Serramenti in alluminio PVC E legno alluminio Metal Impianti Boiano Info 0874 77 34 54 La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salmo Clima stabile e soleggiato su gran parte del centro-sud Italia. Sul Molise le temperature sono comprese tra la minima di 13 gradi a Disernia fino alla massima di 28 a Campobasso, per l'Abruzzo dai 12 dell'Aquila ai 27 di Chieti, cielo poco nuvoloso stellato dalla sera, ventilazione dai quadranti meridionali, calmo il mare Adriatico, domattina valori atmosferici stazionari sulle due regioni, cielo generalmente sereno. Pagina sportiva che apriamo con il calcio di Serie D, il Campobasso è stato presentato ufficialmente il neo allenatore dei Rosso-Blu Rosario Pergolizzi nel pomeriggio, la conferenza stampa, allora vediamo le immagini. Nella sala stampa dell'Avicor Stadium la presentazione del nuovo allenatore Rosario Pergolizzi può cominciare ufficialmente il suo percorso in Rosso-Blu. Il trainer siciliano è chiamato a dirigere i suoi verso un immediato riscatto, già questa domenica quando arriverà la Vigor Senigaglia, presente in conferenza anche il direttore generale Mario Colalillo. La società con a capo Metri Zeta negli ultimi giorni è intervenuta col pugno duro, rivoluzione nello staff tecnico via Mosconi via De Filippis, settimane caotiche come confermato dal vicepresidente, culminate con la scelta di sollevare dagli incarichi entrambi. Scelta estremamente corretta e necessaria, detta del vicepresidente. Non sono state due settimane tranquille per tutti, specialmente per il presidente Rizzetta che è stato qui di presenza, che vi saluta tantissimo, è stato molto bene, però naturalmente è ritornato a casa un po' deluso dalle prestazioni dei ragazzi. Oggi è una giornata speciale perché è stata una decisione difficile ma anche molto facile da fare per noi. Noi non abbiamo dormito direi due notti per fare questa decisione ma dico che la decisione è stata fatta ora che è stato molto meglio di farla domani. Quindi vi diciamo solo in questo momento, come vi abbiamo detto sempre, che noi siamo sempre qui, abbiamo il cuore qui, veniamo spesso qui, mi vedete spesso qui perché c'è quell'attaccamento alla città a cui noi purtroppo, come diceva Matt, è come un figlio, un nuovo figlio per noi. Lascio la negatività dietro perché i più forti reagiscono sempre e sto sicuro che anche stavolta ritorneremo più forti di prima. La parola è poi passata al neotecnico per Golizzi, apparso subito, pronto e preparato e totalmente allineato col credo societario. Per me questa non è un'opportunità, è soprattutto un onore rappresentare una città come Campobasso. Come ha detto il Presidente, questa cosa poteva avvenire prima ma avviene adesso e quindi significa che è il momento migliore forse dove può avvenire. Ci sarà sicuramente amore, umiltà, lavoro e sacrificio perché credo che, però ci vuole del tempo, pazienza e lavorare e sono convinto che noi faremo bene, non sono uno che vuole illudere nessuno perché non illudo, non sono un chiacchierone, preferisco alle chiacchiere dei fatti. Sarò un'aziendalista, però cercherò di essere aziendalista nella crescita della società dei giocatori. So che comunque non è facile, però sono convinto che ce la possiamo fare. Non illudo nessuno, quindi si riparte da zero rispetto il lavoro delle persone che hanno preceduto me, sia il direttore che l'allenatore, perché comunque fare l'allenatore non è mai facile, però adesso si riparte da una nuova gestione. Domani si giocherà il secondo turno nel calcio A5 nazionale di Serie A2 Elite. Il Cus Molise sordirà in casa al Pala Unimol di Campobasso contro i pugliesi del Canosa a partire dalle ore 17.30. Calcio A5 di A2, seconda giornata Benevento, Polisportiva Futura, Lazio Manfredonia, Giovinazzo, Futsal Cesena, Itria Roma, Enna Capurso, Cus Molise, Canosa, Riposa Città di Melilli. Canosa, Futura, Benevento, Città di Melilli, Manfredoni e Roma a tre punti. Capurso, Cesena, Lazio, Giovinazzo, Enna, Itria e Cus Molise a zero. Nella parte alta della classifica nel calcio di promozione ci sono molte formazioni che possono ambire alla vetta un torneo equilibrato fino a questo momento anche per Montenero e Trivento. Enzo Civico, primi tre punti casalinghi in campionato ma quanta sofferenza? Eh sì, abbiamo affrontato una squadra ottima secondo me che come dicevo prima se la giocherà per le prime posizioni. È stata dura però alla fine tutti insieme, compatti, ce l'abbiamo fatta. Era un risultato che mancava a Trivento da moltissime giornate quindi sono contento. La sua squadra ha avuto il merito di restare sempre in partita pur in svantaggio, poi la rimonta? Sì, il primo tempo dove secondo me loro hanno avuto più occasioni mentre il secondo si hanno giocato però alla fine le occasioni sono state meno di quelle del primo tempo. Noi abbiamo cambiato qualcosa, ci siamo messi a tre davanti e quindi ci siamo messi a specchio con loro e secondo me siamo andati meglio e siamo riusciti a fare due gol. Oltre una punta, forse ne abbiamo già parlato un'altra volta, mancherebbe secondo lei qualche esterno alla sua squadra? Ma più che altro forse manca qualcosa a centrocampo dove ci stiamo lavorando, devo dire che tutto il gruppo si sta mettendo a disposizione, ci stiamo allenando molto bene quindi speriamo di migliorare in quella zona del campo. Vittorio Sacchetti, prima sconfitta per il Montenero in campionato, i presupposti sicuramente erano diversi. Ci abbiamo provato, il portiere loro ci ha messo più di una volta la pezza però noi dobbiamo essere più bravi sotto porta e specialmente quando loro sono rimasti in dieci dopo il 2-1 dovevamo allargare più il gioco per far allargare pure loro per fare i gol. Invece ci siamo ingartati nel tirare al centro dell'area e loro hanno fatto il gioco loro. In ogni caso una sconfitta che non pregiudica sicuramente il campionato, siamo solo all'inizio e Montenero con questo organico potrà sicuramente dire la sua nelle zone alte della classifica? Sicuramente, prima di oggi non eravamo quella squadra che doveva ammassare il campionato o che doveva vincere il campionato. Non eravamo la squadra stellare di domenica scorsa ma noi siamo anche la squadra scarsa di oggi. Noi dobbiamo fare il nostro cammino, io so di avere una rosa competitiva però dobbiamo fare meglio in certi fondamentali. Pallavolo maschile dopo un avvio ha sprombattuto la forte volontà di confermarsi l'Energy Time Spike Devils di Campobasso affronta domani la prima trasferta stagionale a Roma in casa di una Lazio che è tra le favorite del girone G della Serie B. Inizio della contesa alle ore 14.30 presso il Palaluis di Roma. Dunque la palacanestro maschile di Serie C Gold, il Termoli, disputerà domenica pomeriggio a Campobasso in campo neutro la seconda partita di campionato a causa della squalifica del Palace Abetta all'incontro alle ore 18 sul parquet del palazzetto di Contrada Selvapiana e questa era anche la nostra ultima notizia. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.